Virgilio Retrosi è stato un allievo importante di Duilio Cambellotti che incontra l'Accademia di Belle Arti di Roma. Virgilio Retrosi si occupa principalmente di ceramiche ma in realtà è un artista artigiano che dedica la sua vita alle arti applicate e durante la sua vita anche seguendo le evoluzioni politiche, economiche e sociali cambia i suoi interessi, le sue attività e passa appunto dalla ceramica cominciata con Duilio Cambellotti a un'evoluzione prettamente grafica che svilupperà successivamente con una proficua collaborazione con l'ENIT per poi diventare fotografo e sperimentatore anche di gioielli. Per la realizzazione delle ceramiche si parte essenzialmente da un'idea iniziale cioè da un disegno preparatorio che in particolare lui realizzava su carta da lucido che permette poi di realizzare degli esemplari semplificati. Quindi dal primo disegno si realizza poi un disegno esecutivo più sintetico perché dovrà essere realizzato poi con il pennello sulla ceramica. Il disegno preparatorio ripassato con la matita di grafite diventa una specie di scarta copiativa che consente di riportare esattamente il disegno sul piatto da cuocere. Viene poi passato un tratto a pennello, prima un colore e poi vengono realizzate le diverse fasi di cottura. I piatti che sono stati ritrovati nei depositi del Museo di Roma Palazzo Braschi acquistati nel 1926 dal governatorato di Roma sono raffigurati i 14 rioni storici di Roma. Per le raffigurazioni l'artista sceglie un'interpretazione cioè fa vedere che comunque si è documentato che ha studiato e quindi per esempio nel rione Trevi non è raffigurata la fontana di Trevi progettata da Nicola Salvi, quella che vediamo oggi, ma addirittura risale all'epoca dell'imperatore Claudio e quindi propone un tuffo nel passato con fantasia e con notevoli dettagli tra cui la trasparenza dell'acqua che fa entra a vedere l'arco romano. Il vasto rione di Campomarzio viene raffigurato con l'antico porto di Ripetta dove sono messi in primo piano le barche che trasportavano il grano e il vino proprio per far vedere l'importante attività economica di questo porto. Per raffigurare il rione di Santo Stacchio sceglie la bellissima lanterna della chiesa realizzata da Borromini della Sapienza, Sant'Ivo la Sapienza che un tempo era la sede dell'Università di Roma e quindi raffigura appoggiati su questa sorta di balaustria gli strumenti delle attività scientifiche e delle attività di ricerca. Qui una serie di disegni preparatori della provincia di Latina e uno dei più interessanti è quello che rappresenta San Felice Circeo con il cran ritrovato nel 1939.